Ciao amiche e ciao amici di Tre Gran Minuti, bentrovati, aggiornamento calciomercato dovuto alla notizia che tutti quanti avrete letto e sentito ieri, ovvero della definitiva sospensione della trattativa Juventus-Luise Suarez, dati tempi tecnici lunghissimi per l'ottenimento del passaporto, io per quanto mi riguarda non sono mai salito sul carro Suarez perché non mi risultava come obiettivo concreto dei bianconeri, ho sempre riportato quelle che erano le mie informazioni, ovvero di un intermediario che aveva proposto il giocatore ai bianconeri e quindi non di un reale interesse della società nei confronti del pistolero, a questo punto la trattativa appare saltata definitivamente e quindi Juventus che continua a lavorare sotto traccia sull'obiettivo primario che anche qui mi sento di potervi dire non è né Milik né Dzeko, anche se in questo momento probabilmente Dzeko è l'attaccante più vicino a vestire i colori bianconeri nella prossima stagione, questo ovviamente perché possa venire, la Juve non deve centrare quello che è l'obiettivo primario di cui parlerò tra poco e Milik deve invece convincersi ad accettare i colori giallorossi. Ovvedivo primario, dunque in passato vi ho raccontato della possibilità di uno scambio Tottenham-Juventus perché il Tottenham aveva proposto lo scambio Eric Kane-Paolo Di Bala, la gioia non ha mai preso in considerazione e anzi ha sempre agitato l'idea di poter giocare in Premier League, quindi trattativa che è morta sempre sul nascere. Altro obiettivo importante e inseguito dalla Juventus era quello di Karim Benzema, ma trattare con Florentino Perez è qualcosa di veramente difficile e soprattutto né il presidente né l'allenatore Zinedine Zidane vogliono privarsi del loro numero 9 e quindi è molto difficile che la Juventus possa arrivare all'obiettivo più gradito a Cristiano Ronaldo e sicuramente molto gradito alla dirigenza bianconera. C'è però un obiettivo che è quello di Erling Haaland che è l'obiettivo primario ed è il giocatore sul quale la Juventus veramente sta facendo di tutto per arrivare ad un accordo. Si lavora grazie ai buoni uffici con Mino Rael per vedere attraverso le sue capacità di mettere insieme a 360 gradi la volontà di tutte le parti per regalare a Pirlo e alla Juventus appunto il centro avanti che sistemerebbe il reparto d'attacco per i prossimi 10 anni. È un'operazione molto onerosa e a chi sentendomi dire queste cose commenterà anche giustamente le proprie perplessità sulla fattibilità dell'operazione. In effetti è un'operazione molto difficile, è un'operazione molto onerosa, ma la Juventus ha un budget da spendere che non è quello di 100 milioni ma un budget importante. È chiaro però che per poter arrivare a questo obiettivo veramente importante, oltre al budget a disposizione, servirebbe qualche sacrificio di qualche giocatore importante. Non è detto che Dybala resti in bianco e nero, così come si cercherebbe di piazzare giocatori come Ramsey e soprattutto Douglas Costa, da lì aumenterebbe il tesoretto da poter investire in questa operazione molto importante che però prevederebbe altri tipi di incastri ai quali sta lavorando lo stesso Raiola. Di qui a dirvi che Alan sarà il prossimo numero 9 della Juventus e ce ne passa. Non mi posso sbilanciare in tal senso perché è un'operazione, ripeto, molto difficile, ma vi posso raccontare che questa è la trattativa in segreto, sotto traccia, che la Juventus sta portando avanti per farsi di anticipare di un anno quella che è una trattativa di cui già si parla per l'estate 2021-2022 con una clausola da circa 75 milioni di euro che prevederebbe l'acquisto di Erling Haaland. La Juve ci lavora da subito, è un'operazione, ripeto, molto difficile, però questo è e questo io voglio raccontarvi. Trovano conferme le notizie e le informazioni in merito alla proposta che la Juventus avrebbe fatto di Mattia De Sciglio alla Roma, operazione slegata da Edin Dzeko, operazione che la Juventus vorrebbe fare a titolo definitivo e che la Roma invece chiede con un prestito oneroso e con diritto di rischiato. La Juve quantomeno chiede l'obbligo di rischiato. Infine sono ripresi i discorsi con Chedira per la risoluzione del contratto per poter liberare il Montengagi ed uno slot a centrocampo che consentirebbe così di poter annunciare l'accordo già raggiunto con Awar e Lione di questo appunto centrocampista che la Juventus vuole mettere a disposizione di Mr. Pirlo. Io per oggi ho finito, vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a mettere like al video, a iscrivervi al canale e a seguirmi su www.lucagravelini.com per rimanere aggiornati su tutte le notizie che riguardano la Juventus. Buon proseguimento di giornata, vi aspetto alla prossima. Ciao! Iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like al video, seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!